Dottoressa Sopranzi, ci sono opportunità concrete per far ripartire le zone colpite dal terremoto? Io ritengo di sì, noi adesso abbiamo approvato una riprogrammazione pro terremoto e comunque ci sono già delle misure messe in campo, ad esempio un bando relativo a manifattura e lavoro 4.0 e quindi una proposta di legge regionale in questa direzione. Noi già abbiamo anticipato quello che poi il governo sta avarando adesso, quindi noi vogliamo abbinare le nuove tecnologie relative a Industria 4.0 proprio però con una valorizzazione del lavoro e quindi il presupposto di questo bando è l'inserimento almeno di un giovane in azienda. Quindi vogliamo proprio valorizzare le risorse umane e far sì che queste nuove tecnologie non portino a una diminuzione dell'occupazione, ma invece una crescita dell'occupazione, chiaramente anche se degli skill sono diversi e quindi ci sarà tutto un accompagnamento attraverso la formazione e anche degli incentivi per la stabilizzazione dell'occupazione.